Ciao, sono Floriana, ho 40 anni e oggi sono venuta qua con un'energia positiva e vado via con una mega energia positiva, mi sento un'altra persona oggi sono finalmente riuscita a tirarmi a un peso che mi ha portato dentro proprio da 38 anni e sono felice veramente, sono un'altra persona, grazie a Carlo, grazie a te, Cristian e a me grazie anche a te, siete persone stupende, siete riuscite a tirar fuori veramente, perché per me era il nostro che mi portavo dentro, ecco quanto spazio occupava, mi sento fortissima, posso andare fuori e spaccare il mondo costruire, lo ricostruiremo, energia positiva, grazie, tutto questo grazie a voi grazie, da domani cosa cambierà in concreto per te, un'azione concreta? pensare più a me stessa e essere costante nelle cose, vedere tutto con una luce diversa e poi dover continuare nella mia positività, dare essere con questo, dare con tutti, aiutare il prossimo è una cosa che ho sempre fatto, che fa star bene e pensare a me e mia figlia consiglieresti questo corso? sì, assolutamente perché? perché se ne può soltanto trovare il giocamento, veramente una cosa che consigliere a tutti come una ricetta medica, vai dal medico, vai per iscrivere la ricetta e vai lasciare un messaggio finale prima di salutarci? grazie veramente di cuore e provatelo tutti veramente perché sono grandioso grazie